Settimane intense in vista per Michael Phelps dopo i trionfi in vasca a Pechino. Sarà impegnato in tv, scriverà un libro sulla sua avventura olimpica e nel frattempo si mescolerà alle grandi star della musica e di Hollywood. Reduce dall'incredibile record di 8 medaglie d'oro conquistato alle olimpiadi di Pechino nel nuoto, Baltimore Kids sarà fra i presentatori degli MTV Video Music Awards il prossimo 7 settembre. Lo ha annunciato il network comunicando tra l'altro che il presentatore principale sarà l'attore britannico Russell Brand. Phelps ha annunciato anche di voler dare presto alle stampe un libro sulla sua storica olimpiade, magari in tempo per Natale, e dovrebbe anche essere l'ospite che aprirà la nuova stagione del Saturday Night Live. Nel frattempo però condividerà con star come Miley Cyrus e Lindsay Loan, il palco degli MTV Awards.